Già nel 1960 un incendio aveva distrutto i baraccuoli, ma Via Reggio non era disposta a rinunciare alla sua tradizione e nel 1961 si costruirono in località Marco Polo i nuovi hangars metallici che, perché più decentrati rispetto agli altri, continuarono ad essere punto di riferimento e di partecipazione per i cittadini. I caristi lavorarono per 40 anni presso gli hangars di Marco Polo, finché questi non risultarono inadeguati ad assorbere le nuove esigenze. Maschere, 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 musica di Marino Marini, marone di Aldo Valerone. Maschere, 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 maschere! e non venissi tra l'ultimo il lavoro Masche, masche, masche con i bambini, con i bambini, con i bambini, con i bambini e non tu i noia, e non tu l'istone e sono i dei, come ha fatto che sognare alla fine Masche, masche, masche e io mi sentiamo, per non lasciarci più e noi so' asche, mergine, schimine rasi, asche, e non so più Asche, masche, masche e non venissi tra l'ultimo il lavoro Masche, masche, masche con i bambini, con i bambini, con i bambini, con i bambini e non tu i noia, e non tu i noia e sono i dei, come ha fatto che sognare alla fine Masche, masche, masche e io mi sentiamo, per non lasciarci più e noi so' asche mergine, schimine, frate, masche e non trovi e io mi sentiamo, per non lasciarci più Grazie.